buongiorno a tutti ragazzi bentornati su the first responder oggi vorrei analizzare con voi un video moto contro automobile per fare questo però bisogno di dividere il video in più step in modo da poter fare un'analisi più tecnica ci vediamo tra poco allora dopo la sigla qui dove proprio fermato il video si può notare la motocicletta che spunta dallo schermo lì è il momento nel quale il motociclista si accorge che c'è un pericolo ora ho calcolato più o meno 20 metri semplicemente facendo una somma dei parcheggi che separano la motocicletta dal dall'automobile con in più lo spazio di marciapiede che si vede più o meno tenuto conto di una larghezza standard di due metri e mezzo per i parcheggi e più o meno di tre metri per quel marciapiede quindi a quella distanza di 20 metri il motociclista si accorge che c'è un problema percezione del rischio ci manca solo la fase quella di riconoscimento decisione e azione così come ce le propone l'istituto superiore di sanità dopo un'analisi tecnica di questi quattro fattori inerenti a il nostro tempo di reazione calcolato in un secondo lui in questo momento percepisce che c'è il problema e infatti se sentite dopo aver portato la prima sui giri la seconda in granata sta per portarla su di giri a un certo punto smorza la velocità e probabilmente comincia già azionare sul pedale del freno lui sta analizzando cosa realmente dovrà fare analizziamo però tecnicamente i particolari che non vanno bene in questo video cioè in questa scena particolare qualcuno commette degli errori vogliamo partire dall'automobile l'automobile sta per svoltare alla sua sinistra perché ha trovato un parcheggio primo se ci fate caso c'è una striscia continua e lui lì non può svoltare secondo non so dire esattamente se abbia la freccia inserita non riesco a vederlo normalmente quando si cerca un parcheggio succede che lo trovi all'ultimo svolti e quindi si omette l'inserimento della freccia quindi sarebbe un ipotetico secondo errore errori del motociclista porta la moto sui giri che sta agendo ad alta velocità questo invece è un circuito urbano decide di effettuare un sorpasso prima delle strisce pedonali questo è un gravissimo errore come potete notare il suo sorpasso è ancora in atto nonostante la linea tratteggiata sia terminata e stia cominciando la striscia continua mentre egli avrebbe dovuto terminarla con la linea tratteggiata il suo sorpasso dunque ci manca ora un dato fondamentale ovvero più o meno calcolare a che velocità sta andando il motociclista in modo da poter sapere quanto spazio gli occorrerebbe nel solo tempo di reazione calcolato in un secondo e per fermare il suo veicolo questo per poter calcolare lo spazio totale di arresto ovvero tempo di reazione e tempo di frenata anche se in modo un po' grossolano potremmo calcolarlo in questo momento osservando il video ovvero sapendo qual è la distanza che percorre tra il motociclista e la vettura calcolare in quanto tempo questa distanza viene attraversata dalla moto in corsa quindi osserviamo un attimo ora sapendo che il nostro motociclista sta percorrendo questi 20 metri in un secondo potremmo moltiplicare questi 20 metri per 60 secondi quindi avremmo 1200 metri al minuto e allora li moltiplichiamo ancora per 60 minuti in questo caso vengono fuori i 72 mila metri all'ora ovvero 72 chilometri orari stiamo ragionando per difetto e quindi sicuramente c'è qualche errore ma più o meno ci siamo quindi più o meno la sua velocità è di 70 chilometri orari almeno quindi ragioniamo per i nostri 70 chilometri orari un secondo è il tempo di reazione e quindi come fare i calcoli a ritroso lui avrebbe bisogno di 20 metri solo per il tempo di reazione e quanti metri avrebbe bisogno per poter frenare secondo una regola matematica è sufficiente moltiplicare la decina del chilometraggio per se stesso 7x7 49 avrebbe bisogno di 49 metri per arrestare il veicolo questi 49 metri per arrestare il veicolo dal momento in cui lui ha percepito e aziona sui comandi del freno vanno sommati ai 20 metri della percezione del pericolo quindi almeno 70 metri per potersi fermare eppure qua ce n'erano solo 20 giusto l'ultima considerazione sulla potenza di impatto il motociclista con la sua moto molto più leggera dell'automobile ha generato una potenza tale da spostare una tonnellata e tre una tonnellata e mezza di auto da spostarla proprio di peso spostandola all'interno della corsia si vede bene tant'è che il suo corpo poi finisce più o meno a 14 metri di distanza li ho calcolati così come ho calcolato il tempo di reazione sommando i parcheggi potete notare che con l'effetto adrenalina se la persona cerca di rialzarsi questa è la fuga ok ma si accorge immediatamente che il suo corpo ha subito dei danni tali da doverlo far riaccasciare per terra questo è quanto è successo e quanto è successo e quanto ci deve far riflettere di quanto siamo fragili ma pur avendo in mano dei veicoli potentissimi e tendiamo a sottovalutare questi particolari tempo di reazione e tempo di frenata che spesso fanno la differenza con quelle cose dalle quali è difficile tornare indietro questo video è terminato e spero vi sia piaciuto ho cercato di analizzare in maniera un po' tecnica e un po' per esperienza personale se vi è piaciuto vi chiedo gentilmente se volete iscrivervi al canale fighissimi se volete mettere un like meglio ancora diversamente se vi va comunque ci vediamo alla prossima ciao a tutti buona giornata ciao